ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi sono elettrizzatissima perché questa mattina mi sono arrivati due pacchi di pink panda sono i pacchi che già nel video precedente di pink panda vi avevo detto che avevo fatto l'ordine perché avevo preso delle cose per quanto riguarda la rude cosmetics già ve l'ho detto la scorsa volta quindi è giusto anche che ve lo dico per questa volta quindi facciamo lo spacchettamento per quanto riguarda questi prodotti e andiamo a vedere cosa apro prima questo prima questo prima questo allora andiamo a vedere cosa c'è io non ho aperto niente perché volevo farvi il video per quanto riguarda i prodotti guardate qua allora abbiamo la summer mystery bag che forse no forse sarà sicuramente uguale alle altre un codice sconto non so di che cosa e andiamo a vedere i prodottini allora come vi ho detto volevo fare una full face quindi ho preso svariati prodotti e andiamo a vedere cosa ho preso questa cos'è la palettina oddio che bella allora questa è la palettina per quanto riguarda il viso non ho preso illuminante in una cialda terra parte o il blush ma volevo direttamente prendere un trio dove c'erano tutti e tre prodotti ovviamente per risparmiare i soldini ve lo dico sincera il packaging è bellissimo guardate quanto troppo troppo bello veramente troppo bello e ha un bocchettino curetta qui c'è la plastichina e vabbè un po scura specialmente la terra è un po scura ma anche la highlighter vabbè ovviamente non lo so perché ho preso questo colore ma comunque è leggermente scura per quanto mi riguarda però è molto molto bella la proveremo lo stesso perché voglio farvi vedere proprio tutti i prodotti quindi abbiamo un highlighter un blush e una terra quindi per provare i prodotti anche se diciamo il colore non è azzeccatissimo ma noi ci proveremo lo stesso e faremo una full face per quanto riguarda la rude cosmetics cioè i packaging sono favolosi ve lo ripeto favolosi andiamo avanti e qui io ho preso ne ho prese due forse no non mi voglio spelerare niente no non mi voglio spelerare niente allora cos'è una palettina una palettina questa è la rudelf rudelflix city of pastel light uguale alla matita che uguale alla matita che ho preso per gli occhi nel scorso video questo è il packaging della palettina qui abbiamo vari colori quindi ho preso una palettina abbastanza pastellosa vi faccio vedere il packaging che è uguale cioè il packaging è fantastico e anche il rilievo bello veramente bello 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 mamma mia che colori ha uno specchietto con dei riflessi bellissimi disegnati e questa è la palette cioè devo dire che è una bellissima palette questi sono i colori stupenda veramente stupenda ha dei colori veramente molto molto belli li voglio sbocciare perché voglio vedere la pigmentazione ok 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 questi sono i colori devo dire che sono abbastanza pigmentati questi ovviamente poi vi farò sapere come mi ci trovo aspettate che prendo una palettina sono rimasta contenta sì vabbè ho sbagliato il colore del per quanto riguarda il blush e l'illuminante è la terra però strano però che io di solito prendo i colori chiari non lo so ovviamente questi vi farò una full face quindi aspettatevi vabbè che vi dico i prezzi allora per quanto riguarda dov'è per quanto riguarda questo che si chiama 3d 3d face palette costata 11 euro e 99 poi questa qui che è della city city of pastel 14 e 99 e la prossima che vi faccio vedere costata 19 e 99 quindi questa è quella che è costata di più e quindi vi faccio vedere e avete già capito che un'altra palette perché ero indecisa tra prendere due palette per quanto riguarda sia i colori pastello ma anche per quanto riguarda diciamo mi serviva qualche nude qualche cosa particolare ho preso questa che anche mi ricordava qualcosa questo è il packaging esterno davvero ma veramente mi stanno piacendo questi packaging una cosa incredibile cioè sono bellissimi veramente bellissimi la palette ha questo specchio enorme la velina come in tutte le cose e vi faccio vedere gli ombretti gli ombretti sono questi fortunatamente sono tutti intatti e mi ricorda qualcosa mi ricorda devo dire che belli i colori ma che fa che fa li svuocciamo qualche colorino così qualche colorino così lo svuocciamo mamma mia mamma mia mamma mia aiuto questi sono gli svuocci cioè guardate qua guardate qua guardate qua bellissimi cioè mamma mia troppo belli molto scriventi abbastanza scriventi devo dire che ci piace ci piace ci piace la situazione ci piace e come se ci piace cioè pulisco il ditino allora questa abbiamo detto 19 e 99 quindi 20 euro andiamo a vedere cosa alla fine apriremo i due pacchettini della bag cosa ho fatto vi spiego anche cosa ho fatto ho fatto tre ordini diversi perché aveva intenzione di farvi dei regali automaticamente essendo che c'erano le spese di spedizione se prendevate qualcosa di esagerato io cosa ho fatto ho fatto tre ordini e ho preso tre summer bag così vi potevo dare la possibilità a più persone di darvi dei regali perché se no avrei avuto le spese di spedizione gratis però non mi valeva la pena perché così posso farvi dei regali a voi e sinceramente mi piace molto di più che avere le spese di spedizione gratis io ho scelto questo poi ovviamente ognuno può scegliere quello che vuole io ho pensato a voi poi fate voi allora apriamo il secondo pacchetto la seconda bag ovviamente abbiamo di nuovo il foglietto di nuovo la summer mystery bag no è diversa guardate è diversa e qui abbiamo il pacchetto si non c'è nient'altro allora la scorsa volta abbiamo forse ho preso qualcosa per gli occhi questa volta cosa ci sarà qui dentro abbiamo quattro prodotti e ho preso un primer e i primer quindi un primer per gli occhi questo è il packaging c'è bellissimo un packaging è stupendo andiamo ad aprire i packaging sono fantastici veramente credo di non buttarli questo è un under eye primer quindi un primer per gli occhi ed è questo molto 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 bello così con il packaging bianco molto molto carino e vi dico il prezzo 5,99 poi ho preso un primer per i pori quindi un primer per quanto riguarda il viso e il packaging è questo devo dire molto molto carino mi assomiglia a qualcosa che già conosciamo ed è questo qui molto molto bello e questo no graphic è costato 13,99 poi abbiamo il fondotinta che è questo vero si ah è un fondotinta più concealer nella colorazione tan così scura 9,99 euro il fondotinta è un fondotinta più correttore il colore è questo mamma mia mi sembra troppo troppo scuro apriamolo ah è sigillato vedete queste sono cose che a me piacciono il fatto che li tengono sigillati apriamo per vedere ovviamente il colore però mi ricordo di aver preso uno dei più chiari allora oddio mi sembra scuro però mi ricordo di aver preso un colore chiaro però certo tan non è un colore chiaro mamma mia sarò abbronzatissima oddio è scurissimo cioè guardate qua è scurissimo ma proprio scuro scuro certo però il nome tan mi avrebbe cioè dovevo già capirlo con il colore tan ma comunque il packaging è questo poi gli metterò qualcosa per farlo diventare chiaro e poi ho preso il correttore che è questo però è strano per il fondotinta sinceramente perché io prendo di solito i colori chiari comunque il fondotinta è nella colorazione nude il fondotinta sì ciao il correttore è nella colorazione nude ed è questo ha il come si chiama riusciranno i nostri eroi sì e questo è il packaging del correttore e ha il solito pennellino che si trova in tutti i correttori sì il correttore ci siamo dai sì per quanto riguarda il correttore è questo guardate il fondotinta e guardate il correttore cioè una cosa esagerata ovviamente vi farò una full face per quanto riguarda questi prodotti allora riprendo da qua io sono stata già a casa di mia mamma e tutto perché si era spenta la fotocamera e sinceramente siccome già era l'orario che io dovevo andare perché già era pronto il caffè e tutto quindi non ho potuto finire il video vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso ma non vi ho potuto far vedere cosa c'era nel bag quindi apriamole insieme e andiamo a vedere cosa c'è dentro se trovo la forbice perché come vi ho detto poco fa si era finita la batteria e quindi ho dovuto smettere perché poi mi hanno chiamato e tutto quindi andiamo a prendere questa la apriamo e andiamo a vedere cosa c'è all'interno come vi ho detto nell'altro video nel primo video per quanto riguarda Pink Panda farò un giveaway per quanto riguarda Instagram e Youtube lo farò in combo così da mettervi il contenuto che c'è dentro le buste farò un sosteggio e farò tre vincitrici poi vedo super giù cosa mettervi in più allora in questa bag abbiamo questo che è una maschera per i piedi che è una maschera per i piedi vi fa vedere proprio l'applicazione e tutto sono me sbagliante questa alle mandorle sì alle mandorle e poi c'è una maschera al melograno ed è all'argilla ed è questa qua quindi due maschere una per il viso e una per i piedi poi abbiamo un rossetto un rossetto di Revolution che è questo qui nella colorazione pro sopra le list rebellious dovrebbe essere questo questo e poi una e uno due non mi ricordo bene cosa c'era nell'altro perché sono passati dei giorni ah sì 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 aspetta me lo ricordo questo che era un illuminante sì un illuminante di Obsession che è questo e poi una palettina io li apro proprio per farvi vedere che sono intatte e tutto ovviamente perché queste io non le tengo e ve li metto nei view che faremo nei giorni a seguire è un'altra palettina come quella dell'altra volta della Revolution ve l'apro sempre per il fatto di sapere se è integra oppure no perché non mi piace che un prodotto risulti rotto ovviamente sì la palettina è integra aspettate c'è lo scotch la palettina è integra ed è questa uguale a quella dell'altra volta quindi per quanto riguarda questo è tutto uguale andiamo a vedere nell'altra busta cosa troviamo all'interno e poi ovviamente vi vi metterò delle foto e lì parteciperete ai view rimetto tutto qua dentro per non sbagliarmi e non mischiare le cose rimetto tutto qua dentro quindi questa è la summer summer mystery bag e poi c'è questa che è sempre la summer mystery bag andiamo a vedere cosa c'è all'interno ne apriamo insieme e andiamo a vedere cosa c'è all'interno senza sbricciare ho toccato una cosa questo che cos'è ah un lip scrub della v7 questo qua un lip scrub stavo sbricciando poi abbiamo una maschera acqua sleeping è idratante e revitalizzante revitalizzante ed è questa qui poi sono le ultime due cose ho toccato con le mani le ultime due cose una è questa dovrebbe essere un'altra cosa di obsession quindi andiamo a vedere cosa è vediamo 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 sono molto curiosa un'altra cosa un'altra cosa di obsession cosa sarà mai dovrebbe essere un illuminante anche questo sì un highlighter ed è h104 ed è un illuminante quello era sul bronzo questo è sul rosa rosa dorato ed è questo qui proprio uguale a quello che vedete lì e l'ultima cosa sì l'ultima è questa palettina si vede benissimo che è una palettina vediamo vediamo spero ovviamente che vi faccia piacere ricevere questi regali oh che carina guardate una bella palettina di 9 ombretti la apriamo e vediamo com'è allora di qua si vede che non è rotta però ovviamente la apriamo così ve la faccio vedere poi ovviamente metterò la foto è molto molto carina guardate tutta con tipo l'effetto della coda della sirena e questi sono gli ombretti sono molto carini devo dire sì sono molto molto carini e questi sono gli ombretti molto molto belli allora per quanto riguarda i giveaway io adesso controllo le cose che posseggo sia per quanto riguarda le mystery bag le summer bag e tutto in più metterò ovviamente altre cose voglio fare più regali sinceramente perché ogni volta ne faccio uno solo e devo premiare una sola persona e un pochettino ci rimango male perché partecipa tentante quindi voglio farvi qualcosa in più farò qualche cosa di particolare questo ve lo posso assicurare e spero ovviamente che una di voi o uno di voi vinca i miei giveaway perché ne farò più di uno ovviamente allora questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Pink Panda come vi ho detto poco fa farò dei giveaway quindi spero di far vincere più persone nel senso fare più di un giveaway perché di norma ne faccio faccio soltanto un premio per una persona invece volevo fare un tipo due o tre persone per quanto riguarda questo video fatemi sapere se volete una full face per quanto riguarda Rude Cosmetics perché sinceramente ho comprato tutto quello che posso diciamo mi possa servire per fare una full face e sinceramente sono molto curiosa di provare questi prodotti quindi scrivetemi un commentino e ditemi se volete fare volete vedere diciamo come si comportano questi prodotti ovviamente questo è abbastanza scuro poi vediamolo proverò sul viso e vedrò il da farsi per quanto riguarda questo video è tutto io ovviamente vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao